Con una buona colazione alla caffetteria Polichetti, la tua giornata prenderà il verso giusto. Da noi puoi gustare ottimi snack e tanti prodotti di qualità. Vi aspettiamo a Cava dei Tirreni in via 24 maggio 13.15. Cresce l'attesa a Cava dei Tirreni per la sesta edizione del Vertical Monte Finestra. Organizzato dal team Anima Trail del presidente Michele Petrone, in sinergia con l'associazione Amici di Monte Finestra e la sezione cavese del centro sportivo italiano. L'evento, che rappresenta il momento culminante del Vertical Fest, entrato nel vivo il 24 aprile con il Cava Green Valley, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza che si è tenuta presso il palazzo di città di Cava dei Tirreni. L'appuntamento è per sabato sera alle ore 8, dove avremo la rubrica sullo sport, ovvero lo sport quale antidepressivo naturale, con ospiti di eccezione. A seguire avremo i racconti video sull'edizione 2022 del Green Valley, che si è svolto il 24 aprile alla Badia. Avremo poi i saluti istituzionali con l'inaugurazione di Piazza Vertical per un weekend e finalmente alle 9.15 la diretta con la vetta nord del Monte Finestra. Al mattino della domenica le due partenze tradizionali, ore 8.30 e ore 9.15. Avremo l'arrivo del vincitore del Vertical di Monte Finestra intorno alle 10.00. A seguire avremo una lezione sulla dendrocronologia per i bambini che parteciperanno al Mini Vertical. Avremo il vincitore del Mini Vertical 2022. Lezioni di sport in Piazza Vertical, gli arrivi degli atleti in Piazza Vertical e finalmente a ore 12.00 le premiazioni dei vincitori del Vertical di Monte Finestra. Dopo due anni il Vertical siamo riusciti sempre a farlo, perché era sempre nel periodo in cui di piccole aperture, quindi siamo riusciti sempre a portarlo a termine. Però ovviamente per una questione di responsabilità il Mini Vertical non l'abbiamo mai messo in cantiera. E quest'anno finalmente, anche per dare un segno di ritorno alla normalità, ritorna anche il Mini Vertical. Il Vertical, che gode del patrocinio del comune di Cava dei Tirreni, è nato con l'idea di valorizzare le bellezze paesaggistiche meteliane e dare un impulso al turismo mediante lo sport. Il Vertical Monte Finestra è diventato un appuntamento atteso dalla città, come tante manifestazioni importanti, la politica San Lorenzo, e anche altre attività che vengono svolte in città. Siamo tutti quanti pronti, come amministrazione abbiamo dato massima disponibilità per questo evento, perché ci crediamo, perché come dicevo prima, può rappresentare un importante volano per quanto riguarda il turismo sportivo, ma anche per far conoscere la città al di là dello sport. Quindi facciamo un appello alla città di essere presente, quindi di incitare sia sopra Montefinestra, ma anche a Pazza Vertical gli atleti, quindi che verranno da parecce regioni dell'Italia, quindi dell'Italia, ma ci sta anche qualche presenza straniera. E per fare in modo che Cava posti in qualche modo, nel migliore modo possibile, accogliere questi nostri ospiti. Il Vertical Monte Finestra aderisce alla seconda giornata nazionale, Sport contro Bullismo. L'iniziativa, ideata e promossa dal movimento Ma Basta, è in programma appunto domenica 15 maggio. Gli ultimi del Vertical Monte Finestra, maschili e femminili, verranno premiati, perché questo sport non deve solo vincere il primo che arriva, ma devono vincere tutti. Quindi anche per, ecco, perché noi sposiamo questa causa contro il Bullismo, ci fa piacere che ci hanno insegnito di questo riconoscimento. Quindi noi, come abbiamo fatto sempre, sia per il femminicidio, sia con tutte le discriminazioni, appoggiamo anche questa causa.